Un progetto, Limoni Traff, in grado di coinvolgere regioni d'Italia, Austria, Svizzera e Francia per puntare a sviluppare soluzioni comuni per la riduzione del traffico nell'arco alpino. Questo è uno degli obiettivi al centro del vertice tenuto all'Eurac dall'assessore provinciale altoatesino Florian Musner insieme ai colleghi Ingrid Felipe del Tirolo e Mauro Gilmozzi del Trentino. L'idea è di riuscire ad elaborare strategie comuni per una gestione sostenibile dei flussi di persone merci avvalendosi tra l'altro di un monitoraggio e una valutazione costanti dei dati ambientali e sul traffico. Innanzitutto il finanziamento necessario per poter andare avanti per quello che concerne i contenuti una domanda ovvero una dichiarazione di intenti, se così possiamo chiamarla, per quello che concerne la vignetta europea e come terzo anche fare sì che tramite EUSALP si riesca ad avere un maggiore intervento politico nell'ambito tecnico anche per risolvere certe problematiche con esse. Due importanti scadenze sono attese la settimana prossima a Bruxelles relativamente al trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia nei territori dell'Oregio. Da un lato l'incontro con i funzionari della Commissaria Europea ai Trasporti Bulche per discutere i presupposti giuridici dell'operazione, dall'altro la riunione del GEC Tirolo Alto Adige Trentino nella quale si intende deliberare l'istituzione di una centrale di coordinamento per il trasporto merci nell'Oregio e predisporre un pacchetto di misure che favorisca il passaggio dalla gomma alla rotaia e la realizzazione nei tempi previsti delle tratte d'accesso del tunnel di base del Brennero. Dobbiamo riuscire insieme a far capire che sono necessarie non solo le infrastrutture ma delle politiche attive perché si realizzi questa idea di trasferimento di merci e persone dalla gomma alla rotaia perché altrimenti rischiamo di avere l'infrastruttura ma non avere poi i risultati che ci si sta aspettando. Per il 20 novembre prossimo Musner, Felipe e Gilmozzi hanno fissato un nuovo incontro. Questa volta si terrà a Trento.